Allora Pucca, da uomo del sud le chiedo l'impatto cinese su questo pezzo di Napoli che effetto fa? Ma intanto se c'è questo impatto cinese su questo pezzo di Napoli c'è un rapporto sicuro con la camorra perché la camorra non ti permettere mai di fare questi affari illeciti se non attraverso il controllo quindi io invito i miei concittadini napoletani, ma ci sono queste situazioni in tutta Italia a testa da nord a sud, di sole comprese, a non andare perché comprando dai cinesi stai dando dei soldi alla camorra e poi non ci lamentiamo perché i nostri figli crescono in contesti malati Fabri, che storia è a chiudere quella che abbiamo raccontato e che si chiude con questo genere di prodotti? È una parte delle esportazioni cinesi, non tutte ci mancherebbe altro, le esportazioni cinesi sono di questo tipo anzi dobbiamo essere chiari, però esiste questa realtà, è una realtà che come stavo detto nel servizio a mio avviso è molto nota, non siamo davanti ad un inedito, mettiamola in questa maniera altrimenti ci nasconderemmo dietro un dito, resta il fatto sul piano più generale sono d'accordo sulle varie fasi dello sviluppo industriale che la Cina sta attraversando se invece dovessimo metterla su quella strategica, la Cina che fa tutto questo perché non solo ambisce a diventare un paese benestante, anche se sta invecchiando ma perché vorrebbe sostituirsi agli Stati Uniti come perno del sistema mondiale edulcoriamola in questa maniera, se la Cina pensa soltanto di esportare visto che ci costruisce infrastrutture perché non ama importare i nostri prodotti anzitutto, ma anzitutto esportare i propri, difficile che si sostituirà gli Stati Uniti gli Stati Uniti perseguono scientificamente il deficit commerciale oltre 500 miliardi di dollari di deficit commerciale sebbene questo poi genera malcontento della popolazione americana di cui anche l'elezione di Trump se la Cina pensa soltanto di esportare questo le creerà enormi difficoltà a sostituirsi agli americani